Ehi ragazzi, ciao a tutti e rinicchè, bentornati qua su Demolish and Biled 2018 Allora ragazzi, vediamo un po' cos'altro c'è da fare in questo gioco Diamo subito quindi un'occhiata ai lavori disponibili Vediamo un po', allora abbiamo bisogno di più rottami e pagheremo due volte il prezzo di mercato Cerca i cerchi verdi per trovare fonti di rottami sulla mappa E poi abbiamo invece una missione C'è un'infrastruttura di condutture, di un bacino sotterraneo Che abbiamo bisogno, venga rimossa, vabbè insomma, bulldozer e smeriatrice Allora, questa è una cosa tutto sommato nuova, dovrei cercare i cerchi verdi Mostro sulla mappa Quasi quasi, andiamo a dare un'occhiata qua Ci stanno due cerchi, quindi vediamo un po' se troviamo questi famosi rottami Ma ho bisogno di una macchina Teoricamente, eccolo qua, ci sta una bella P Figliamo pick up e andiamo a dare ragazzi un'occhiata a questi segnali con cerchi verdi Allora, ci siamo quasi Vediamo un po' questi rottami Allora, la zona verde Allora, qui si vede che ci stanno rottami Cioè, cose vecchie, diciamo, rottami non lo so Schiaccio R, così vediamo se mi segna qualche cosa Mmm, c'è un vecchio pick up Ah, ora me li segna Vabbè Ah, ok Prima ero venuto qui a guardare sto coso Ma, vabbè Ok E che devo fare? E poi cosa dovrei fare con il rottame Ah, lo dovrei caricare sul pick up Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ok Eh, qui il tutorial non me l'ha dato Difatti ancora c'è C'era quel vecchio tutorial Quindi Devo caricare il mio pick up Mi segna anche Che praticamente posso inserire al massimo dieci pezzi Cioè, vabbè Io arrivo e mi frego le Non lo so Magari metti che sto vecchio pick up è di qualcuno Arriva Nick e gli frega i pezzi del pick up Ah, qui col martello Ecco, sembrava strano Ah, ah, ah Il robottino qua ci vuole Per forza Penso che è l'unico che può agganciare il motore Vabbè, questo invece lo prendo tranquillamente Ma sai che ci vuole il robottino? Forse posso Posso portarlo qua Se trovo mi allontana la P Vabbè Pichiamo Pichiamo il robot e vediamo Cos'è sta il robot qui? Ah, per far benzina Beh, ovvio Eccola P Robot da demolizione Ok, io torno già indietro Tanto il robot è telecomandato Quindi Mo' lo guidiamo Lo guidiamo fino a qua Anzi, facciamo una bella cosa Spostiamo il pick up più avanti Perché è un po' complicato Se no Mettiamo il pick up qua Così è più semplice Caricare le cose sul pick up Dobbiamo andare Ah, ma questo va a carburante Pazzesco Ecco, meno male Guarda Meno male che l'ho visto Almeno Almeno non Rimaniamo a secco Pensavo che era elettrico Vabbè, sì Effettivamente non fa un rumore elettrico Però Non ci ho pensato Che funzionava a benzina O comunque a carburante Vediamo un po' se con questo Possiamo tirare il motore Tanto guardate Nicchia là Che manovra il tutto Oh, sì Eh, mo' a tirare il coso da qua Aspetta Non ci sto mica a riuscire Eh, mia zuta la macchina Mi alzo Aspetta un po' No Non me sta proprio Ah, eccolo 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 Oh Finalmente Oh, tre ore Oh, ce l'ho fatta Meno male Allora Vediamo un po' Che altro manca Sportello Numero 5 E tagliamo sto sportello Carichiamolo Dov'è? Oh Specchetti I specchetti li devo proprio spaccare così? Dov'è finito? Oh, cavolo è finito il specchietto Raga B B Ah, dentro Che cacchio Ma che è? Se l'è mangiato il terreno Il terreno Ah, no, qua E qua No No Oh, sì Che cavolo è? E lui? Ah Ma guardate Ho tre ore Che lo cerco 75 Allora L'altro Che affine ha fatto L'altro specchietto Raga Non si sa Se ne è mangiato il terreno Ma sa Oppure Andata Se è incastrato Da qualche parte Ma chi lo sa Allora Tagliamo qua O no Ok E pure questo Lo devo tirare Con il coso qua Allora Con il robottino Devo capire come Alziamo Questo così E questo Più in alto Di così Non va Ok Ma forse Forse il problema È che il robottino Non basta Forse Ce la fa meglio Il Il coso lì L'escavatore Chi lo sa Comunque Vediamo se ce la facciamo Ok Ok Preso Ah vabbè Non è pesante Era il motore Che era veramente pesante Oh 100% Perfetto Quindi in modo Perché devo consegnare Tutta sta roba Me lo dice? Ah Deve essere qua Ok Bene Ho messo il Segnaposto Lì Il segna Mi viene da dire Segnalibro Però è invece Il giusto segnaposto No? Il segnaposto È già più giusto Chiamiamolo in inglese Waypoint Perfetto Sono sicuro Che ci ho azzeccato Allora Vediamo un po' Guardate qua Tutti i rottami Che ho caricato Sul pick up Vediamo Oh cavolo Alle volte Non gira Sta macchina Vediamo Oh Ecco 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 La discarica Devo pallare Con sto tizio Per vendere Vedo un colpo Di martello In testa Guarda Sì L'ho fatto Ah Richiesta accettata Eeeh Te li ho appena portati Ah Eccolo Ok 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 3600 tonnellata Venti Ora 1800 Boh Ok Almeno abbiamo guadagnato Un po' Di soldi No Allora Andiamo a vedere Un altro carico Di rottami Voglio capire Se mo Me lo paga Di meno Tanto Ho visto Che ci sta Qualcos'altro Qua vicino Un altro Un altro Coso verde Un'altra zona verde L'ho vista Quindi Vediamo un po' Che cosa possiamo Caricare Da questa zona Dovrebbe essere Qui E mo Vediamo Cosa Allora I spicchietti Quindi Li piglio No I spicchietti Qua mi sa Che non me li fa Prendere Allora Uno Questo No Ah Questo col martello Preso Poi Questo va tagliato Ma che cacchio E scemo Ok Poi Ero convinto Che era Così Invece Col martello Pure questo Ma alcune cose Le tagli Alcune cose No Il motore Lo posso Prendere pure Me sa Tanto Di no No Il motore Non si può Prendere Ok Qua ci vuole Il robot Allora Meno male Che è dietro L'angolo Vabbè Che cambia poco Alla fine A portarlo In zona Non ci vuole Niente Allora Prendiamo qua Prendiamo qua Il tettuccio Ok Piano 80% Tanto non c'è altro Da prendere Da questa macchina Da questa macchina Purtroppo Non posso Recuperare altro Allora Vendi Ora me li paga Effettivamente Di meno La prima volta 3.600 Boh Magari A periodi Che ne so Ok Andiamo a fare Allora Quell'ultimo Lavoretto Lavori Serbatoio Mostra Ok Segnato Andiamo a fare Quell'altro Lavoretto Magari Poi così Sblocchiamo Qualche lavoro Più avanzato Perché ancora Ci stanno Ancora ce ne stanno Di macchinari Che devo sbloccare Quindi Suppongo che Qualche Lavoretto Più sofisticato Magari Uscirà Credo Almeno O forse ci siamo stati Invece Ma qui ci siamo Già stati Però è diverso Forse è il continuo Di quella missione Allora c'era in fastruttura Di condutore Un pochino Sotrani Abbiamo bisogno di fare Ok Avete capito qualcosa Ah ma questa L'ho già fatta E perché me la da di nuovo Ma non lo so mica Teoricamente Mi deve dare cose nuove No Boh O forse è giusto Per farmi fare un po' di soldi Può essere che anche Per farmi fare un po' di soldi Prima che Prima di poter sbloccare Le cose più avanzate Magari ci vogliono più soldi Boh Vabbè Ormai Tagli i tubi Tutta roba Io ho già fatto Qualche gameplay fa Ah pure le sedie Sì Il primo camper è andato E manco cade Guarda Cade Ma penso di sì No Due Ah questo Ok È andato Due in una volta Ok Ancora sei Me ne mancano E vediamo un po' Se si sblocca la situazione Qua Quale è andato E questo pure E allora Quale cavolo manca Io ho altri camper qua Non ne vedo Ah ecco Ah era questo Ok Bene Quindi mo andiamo a demolire i tubi E poi me paga E poi vediamo ragazzi Per caso Finalmente mi da magari qualche missione nuova Deve O forse devo comprare qualche macchinario Magari forse il gioco aspetta che io compri i macchinari E poi mi da le missioni nuove E allora facciamo così Dopo di questo lavoro qua Vado a comprare qualcosa Ok Gli ultimi tre tubi E poi E poi E' fatta Ok Finalizza Finalizza Ok E questo mi ho pagato pure Allora Abbiamo superato i 40.000 dollari Anzi Più che superati Devo capire Mo ragazzi Se arriva qualche lavoro nuovo Se O se Devo Compr- Aspetta Dice Ottieni il rating aziendale D Ah quindi Devo migliorare l'azienda Prima che mi arriva qualche lavoro nuovo Eh difatti mi sta dando i soliti lavori che ho già fatto Devo migliorare quindi l'azienda Rating E come faccio Acquista proprietà E ottieni punti aziende Aziendale Patrimonio netto Acquista proprietà Devo acquistare proprietà Ah ok Aspetta E allora Ecco perché non si va avanti Devo acquistare proprietà Deposito legname Boh Vabbè andiamo a dare un'occhiata all'officina qua Vediamo se posso comprare qualcosa Questo l'ho già comprato Ah questo lo devo comprare Il rullo Eh compri Quanto mi costa? Sette mila Ma sì posso comprare tutto Qual è il problema? Ok Ah 200 punti patrimonio Ancora siamo decisamente lontani Però mi sa che compro tutto Però se compro tutto poi Vabbè ma tanto non costano niente sti cosi Ah ma i punti azienda non migliorano Ma non costano niente le cose qua Sette mila e cinque Ho comprato tutto praticamente Ho comprato tutto Ah però aspetta I punti azienda mo un pochettino sono saliti Ma di poco Decisamente di poco Andiamo a dare un'occhiata Andiamo a dare un'occhiata qui Vediamo se posso comprare qualcos'altro di nuovo Tanto sti soldi li devo spendere no? Martello pneumatico Ma ce l'ho Ah sì ce l'ho Saldatrice Acquista O praticamente sto comprando tutto Ma sì vai No le cariche esplosive no Tanto quelle sono usa e getta diciamo Ovvio Quindi ho comprato tutto Veramente Ho comprato tutto 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 Devo pigliare forse qualche licenza Pare di no No Non devo prendere licenze Quindi l'unica cosa che devo fare adesso È comprare qualcosa Ho ancora 21 mila dollari Ma di la verità non sto a capire che devo comprare Dov'è il mio ufficio? Il tuo ufficio? Vediamo se Cos'è questo? Suggerimento No Questo è il mio ufficio? Sì Eh non lo so se C'è un modo Per migliorarlo Qua dentro Blu Non ne ho la più pallida idea Dice che devo acquistare proprietà Per migliorare il mio rating aziendale Ma non so che devo comprare A dire la verità Va bene facciamo così ragazzi Io concludo qui questo gameplay Così magari qualcuno di voi Se sta giocando a questo gioco Mi sa Aiutare Magari qualcuno di voi È già arrivato oltre Quindi mi sa dire Che cosa devo fare Va bene Quindi ragazzi datemi qualche suggerimento Io spero che il gameplay vi sia piaciuto Come sempre ragazzi Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Ci becchiamo presto ragazzi Ciao alla prossima Ciao a tutti 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 Ciao a tutti